Ci troviamo nella Galleria Nazionale di Costanza, situata sul Collettino, in uno dei malazzi del Cinquecento. Quest'opera del XVII secolo, di Giovan Bacista Caudi, detto il Baciccio, rappresenta Pasche Ove Smeas, che significa Pasqua nel New Reggio. Quest'opera rappresenta Gesù che chiede a Pietro, l'apostolo più importante, di pascolare la sua legge, ovvero la Rescesa. Ai lati della sala troviamo due ori sinceri del XVII secolo di Occiapreti, rassicuranti Ercole, libera Prometeo ed Ercole, libera Teseo. Prechi, in queste due opere, gestione la capacità di raffigurare esoni in differenza e alla base. Nella sala che conserva le collezioni di arte contemporanea si trova la copia della scultura di Umberto Boccioni, forme uniche della continuità nello spazio, considerata uno dei capolavori del futurismo. A presto! 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 A presto!